Guardate che roba, va bene, ma se li bradiamo un angolino, arriviamo e giriamo indietro. Figaro, non puoi neanche appoggiarti, cazzo. Porco diavolo! Qua troviamo anche le mutande di lana, non solo le reggisemi. Beh dai, non è che c'è qua, cioè, è solo quel pezzettino lì, eh. Tu non puoi pulire una cosa dove non vai fuori da nessuna parte? No, arriviamo lì e ritorniamo. Cioè, si fa veramente quattro balle, non è che... Eh, è lì che figaro sembra veramente... ...la foresta, cacchio. ...la foresta, cacchio. Guarda, che roba, forse di altro! I capitelli, i cosi hanno buttato giù. Cioè, questi qui veramente sono quelli di una volta. C'è chi? Vai, c'è chi? Sì, sì, guarda. Tutti questi via non lo so, ma che cazzo si fa buttarli via? E qua è dove già giriamo indietro, non è che c'è un odore. C'è tutto quel lavoro qua per fare 100 metri e tornare, qua almeno giri e fai il giro, sennò era un cacchio, è vero. Marco hai lasciato lì la corda sul sasso l'altra volta? Cos'è che ho lasciato? La corda? La corda? Eh, hai lasciato fare la corda sul sasso? Eh, hai portato a casa a te. Come no? Hai portato a casa a te. Come no? Te l'avevo delfanti del zio Seve di una volta. guarda che quel legno lì Marco se c'è una maniglia eh te scherzi